un tubo e un ingorgo quando noi abbiamo i nostri tubi bloccati in qualche modo ci rivolgiamo spesso a qualche prodotto chimico magari l'idraulico gel con una specie di genio della lampada che si infila nei tubi per riuscire a sgorgarli questo è il nostro tubo ecco bucato e quindi un tubo che può essere completamente tra l'altro esaminato sia da una parte che dall'altra da qualsiasi spettatore questo è il nostro ingorgo che allo stesso modo può essere esaminato nostro ingorgo è così bloccato sopra il tubo e il tutto chiuso e sigillato così in modo tale da rendere letteralmente impossibile il passaggio delle monete da una parte all'altra abbiamo le nostre quattro monete e la magia da fare perché basta semplicemente mettere le monete così nel tubo che noi vediamo che una moneta e una sola moneta riesce a passare da una parte all'altra attraverso il tubo 1 2 3 monete non passano questa è la prima moneta che riesce a passare ma allo stesso modo anche la seconda moneta riesce così a passare attraverso il tubo e anche questo succede per una terza moneta e questa è davvero l'ultima moneta la più difficile perché basta prendere la moneta e lanciarla che noi vediamo la moneta passare così attraverso il tubo queste le monete questo il nostro tubo che può essere ancora una volta fatto esaminare il gioco delle monete attraverso il tubo l'ultima 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 l'ultima